Il circolo sorge al piano superiore del museo civico è stato realizzato con l'indenità del sindaco Mario Salvatore Scarpitta. Come ogni mese il primo cittadino attraverso la rinuncia del proprio stipendio regala un'opera alla collettività. È un nome particolare. Mi devo ringraziare il mio cugino Vincenzo Di Mauro perché abbiamo chiesto una sua consulenza per chiamare il centro a Vandagiazza. Perché qua è Rione, la via al Corso Diaz e qui si chiamava così anticamente e si chiama ancora così. Mi date conferma? Mi auguro che siate tutti contenti di questo nuovo centro di aggregazione fruibile per tutti. Non solo per gli anziani ma anche per i giovani. Perché è bello condividere che il giovane è vicino all'anziano. Come diceva Maderesa, l'anziano, il diversamente giovane come dico io, è un'enciclopedia. E quindi è giusto attingere attraverso loro. In questo periodo storico in cui viviamo, dove dobbiamo praticare il distanziamento sociale, può sembrare un po' un controsenso inaugurare un centro di aggregazione, ma è proprio questo il momento in cui dobbiamo stare più vicini all'anello più debole della nostra società, che sono gli anziani e i bambini. Quindi distanziarci sì, ma con l'affetto e con la consapevolezza che queste persone non devono essere lasciate sole. L'anziano non significa vecchio. L'anziano è il passato che vive nel presente. L'anziano è il mezzo per trasmettere ai nostri giovani quello che è stato, le nostre tradizioni e le proprie esperienze. è un po' il nostro Wikipedia all'anziano, diciamo. Quindi benvenga il centro per gli anziani. La partecipazione di questa sera dimostra che la gente vuole fatti, che è stanca di social, è stanca di persone che parlano, ma che poi nella concretezza, vista anche la loro storia, dimostrano poco quanto niente. Come sapete sono estremamente concreto, amo poco chi vuole soltanto apparire. Per me contano solo ed esclusivamente i risultati, quelli che servono per la collettività. Noi questa sera non abbiamo fatto nulla, nulla di eccezionale. Abbiamo soltanto usato lo stipendio dell'amministrazione e lo abbiamo messo a disposizione perché nell'agenda politica di questa amministrazione quando siamo andati sui balconi abbiamo detto delle cose. Che avremmo fatto delle cose. Io non ho mai letto il programma elettorale perché l'ho impresso nella mia mente e ogni giorno cerco di cancellare una di quelle cose che ho detto su quei balconi e cercherò di cancellarle tutte. È facile dire facciamo il centro anziani in una dimora bellissima ma poi bisogna fare il conto economico. Questo invece di nostra proprietà si è liberato e oggi si creano i presupposti per creare un nuovo servizio a Camerota. Grazie.